Ciao a tutti da Sarido e bentornati su Horizon Zero Dawn. Dunque, in questo episodio porteremo a termine la missione dell'eredità fatale e successivamente inizieremo quella dell'onore ai caduti, ma ne sono successo un po' di tutti i colori. Non aggiungo altro. Buona visione. Eh, qui? No, che casino! Eh, un attimo, devo rubare, poi arrivo, eh? Oh, vabbè, frammenti di metà... Sì, non rompere i coglioni! Sì, arrivo! Una vedetta? Taci un po'! Una cassa? Minchia, avrei voglia di lasciartici, eh? E qua? Eh, sta un po' zitta da radi, come cazzo ti chiami? Ok, a lui, ciao! Mamma mia! Eh, se rompi i coglioni così, lo credo anch'io! Scappavano tu? No, scappavano, scappavano! Allora, domande... Cosa è successo? Di grazia? Cosa è successo quando hanno attaccato? Ho sentito urlare e sono a corso. Il razziatore ha dilaniato le guardie come bambole. Vedi te? Mi ha spinta nella dispensa. Ha ucciso una vedetta. Poi, il cannone del razziatore ha colpito... Eh, grazie, ha fatto una strage. Ho cercato di aprire la porta, ma mi aveva chiusa dentro. Eh, chissà com'è mai, ti ha salvato... Eh, appunto. Eh, purtroppo no. Allora, da dove sono arrivate? Se cazzo di macchine... Dici cose? All'improvviso. Ogni anno abbiamo visto sempre più macchine qui intorno. Ecco perché mio padre è ingaggiato delle parti. Ah. Ma non ci avevano mai attaccato così prima. Non ho idea del perché. Ah, così a cazzo, quindi. Eh, non mi dice altro, quindi continuiamo a cercare. Darò un'occhiata in giro. Sì. Va bene. Resterò qualche momento con mio padre. Sì, ho ciò che ne resta. Purtroppo, per te. Eh, allora... Ok, qua non c'è un cazzo. Qua c'è un'altra porta, Aloy. No, non ci possiamo fare una minchia. Eh, sì. Allora, là vedo un coso. Iuh. Ah, ispezioni... Abbiamo trovato la chiave dell'officina. Così a cazzo? Ottimo. Eh, Aloy. Un attimino di focus che... Che è sto coso? Devo entrare qui dentro e controllare quella cosa. Ah! Ok, aspetta, che prima l'ho vista una cosa. Magari sono cose da rubare che ci possono... No, non sono cose da rubare. Saga penedicinale piena. Vaffanchi urlo. Ah, è una sciarpa. Ok, e di qua no, di qua no. Di qui neanche. Porca troia. Devo fare sempre... Sempre l'ultima opzione, eh. Di qui? Sì, di qua. Ok. Eh... Un carretto gliciato male. Eh... Aloy, entriamo. Grazie. Cos'ho? Cos'ho per la ditta? Oh. Fico! Fico, peccato che non ci sia un cazzo da rubare. Però, ok, cos'è codesto? Eh, esamina. Il dispositivo invia un segnale. Potrebbe aver attirato le macchine. Ah! Ok. Spegniamolo Aloy, spegniamolo prima che arrivi di nuovo qualcuno. Questo dovrebbe bloccare il segnale. Ma qualcuno l'ha messa qui per attirare le macchine. Ah, hai capito! La farfalletta che scompare e appare. Ah, quindi. Qualcuno ce l'ha messo apposta? E chi è sto bastardo? Chi è questa carogna che ce l'ha messo apposta? Eh, sì, vabbè. Suppongo che devo... Eh, infatti. Darà, diciamo. Credo che qualcuno l'abbia messa qui di proposito per attirare le macchine. Per caso tuo padre aveva nemici? Oh no. Mh. Mio fratello. Ah, hai capito! Quindi tuo fratello ci ha messo... Hai capito? Il bastardello! E venderla! Così! No, figlio di tua madre! Se non mi permetterai... Eccolo! Noi siamo fratelli. Assassino. Non hai alcun onore. No, sei un... Ma avrò tutto questo. Quando incontrerai il nostro padre. Ringrazio per l'eredità. Pezzo di merda fumante! Ricorda te, questo dispositivo chiamerà altre macchine. È molto più semplice che ucciderti. Oh, sì! Ci godo! Quanto ci godo! Ecco, adesso ci godo un po' meno. Porca troia! Adesso è problematica? Sì, adesso è molto problematica. Allora, nascondiamoci un attimo qua dentro, per favore. Perché... Sì. Devo studiare la situazione. Ok, la situazione è merda. Quanti sono? Uno, due? Se lo faremo a prenderlo? Sì, l'abbiamo preso. Pensate... Mollami un attimo! Mamma mia, ma che cacca che... Ahia, Loi, questa ha fatto male. E... Oh, porca puttana! Ce la fai a nasconderti un attimo qua? Oh! Grazie! Ah, perfetto! Cosa c'è? Va bene! State pure lì, eh! Ecco, perfetto, Loi, la mira! Quello che ci ha reso celebri, eh! Però se sto qua non mi possono attaccare. Eh, sì. Preso, dai! E lo tiriamo giù! Dai che lo tiriamo giù, sto bastard! Dove... Dove sei? Infame! Mettiti... Ah, pure un altro ne è arrivato! Allora, glielo spariamo una freccia nel culo! No, eh! Ok, uno l'abbiamo tirato giù! Via! Via, via, via! Io ho detto... Aloy, muoviti, puttana la rana! Oh! Allora, un po' di vita! Perché eravamo messi... Malissimo! Eh, sì, è strano! Preso! Mancato tantissimo! Preso! Eh, preso! E mo ci muori! Oh! Dov'è l'altro pennuto di merda? Vieni qua! Vieni qua a dirlo! Vieni qua a dirlo! Vieni qui! Infame, maledetto! Oh! Alleluia, eh! Allora, allora... Rubiamo... Rubiamo tutto! Ok, piglia! Eh, dov'è l'altro? Sono rimasti fuori mappa! Porca troia! Ok, vabbè... Daradi, come cazzo ti chiami? Ciao! Eh, sì! Bel pezzo di merda, eh! Grazie! Grazie, Daradi! Cosa mi hai dato? Missione completata! Una cassa di ricompense notevole! Ottimo! Ok! E questa l'abbiamo fatta! Di grazia? Dov'è il mio animaletto che hanno ucciso male? Ok! Allora, ce l'abbiamo fatta! Nel mentre potrei... Recuperare un po' di piante medicinali, visto che mi hanno fatto il... Sotto coda! In modo malo! Come se sei morto male, ragazzo mio! Ok! A questo punto direi di proseguire con la missione dell'onore ai caduti! Ovvero, dobbiamo ancora fare... Raggiungere il santuario del re sole! Ok! Raggiungere la cima della rupe del sole! Ok! Uccidere i due celermorsi! E... Sì! Questo potrebbe essere preoccupante! Ok! Eh... Dove dobbiamo andare? A Fanculonia! Ok! Vabbè! Eh... Dobbiamo andare di qua! Andiamo! Oh, signore! Ecco! Mi servirebbe una macchina da Soma! Perché almeno mi sento anche un pochettino più protetto! Eh... Dove dobbiamo andare all'Oi di grazia? Ah! Ok! Dovremmo essere tranquilli qua! Teoricamente, eh! Oh! Guarda caso! Proprio te stavo cercando! Eh... Sì! Ci sarà qualcuno che mi sente! Ma neanche per sto cazzo! Sì! No! Mi ha sentito! Sì! Sentire mi ha sentito! Dobbiamo vedere se riesci ad arrivarci fin qua, eh! Vieni, bella macchinina! Vieni! Pio! 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 Andiamo di qua! Prima cosa! Poi vedremo! E per ora fermiamoci qua! Abbiamo scoperto che il detto parenti serpenti, 9 su 10, è sempre vero! Comunque! Nel prossimo episodio vedremo cosa andrà a succedere! E ho già timore! Ho già tanto timore di sapere! Comunque! Se vi è piaciuto il video, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate un po' il cazzo che volete, come al solito, tanto lo sapete, cosa ve lo dico a fare non lo so, e noi se vorrete ci vediamo in un prossimo episodio! Ciao ciao!